Ciao a tutti ragazzi, io sono TheChemist e benvenuti in questo nuovo video. Che brutto che... ma perchè? Continuiamo. Allora, io so che qua ci sarà qualche bastardo pronto a farmi cagare addosso. Qua non c'è più la porta perchè il tipo di prima era un po' nervosetto e la tirata giù. Bene. Sante o sinistro? Oh! No, ma perchè? No, ma perchè? No, ma perchè? I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There's so much yet for you to witness. Uuuuuh. Will you see it? Can you? No, 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 no. Non. La solo via fuori questo place è la truth. Volano! 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 Poi si tratta verso la verità. Va bene. Quindi suppongo che non possiamo uscire. Va bene lo stesso. Nevica Ah no Oh vai La nostra fedele telecamera C'è ancora bene Benissimo Allora qua ci sono un po' di croci Resti in peace Ricorda che vengono Forse devo Oh Che sei tu No Oh oh No invece io ti guardo stronzo Vieni qua guarda che ti guardi Guarda che ti guardo Ma quello perché tira delle zuccate sul muro Non mi sembra molto intelligente Bastardo Fatti vedere Uuuu sei sei brutto Voi chi c'è? Ciao Mamma mia Mamma mia cosa ti hanno fatto in quella povera faccia Mamma mia Questo c'è un po' le orecchie in stile duomo Mamma mia sono nudi No Dammi lontano Allora qua dobbiamo aprire le porte Io da lui ci sto lontano Vaffanculo Ok qua non c'è niente Proviamo a aprire questa È chiusa Wow Cos'è? No 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 Lì non ci andiamo Vaffanculo Pile No Quello cazzo Uuuu Dammi lontano Qua si può entrare No Andiamo C'è un tipo che dalle zucate si può entrare Sì No Ok non c'è niente Stabilitante Grazie Cazzo mi sa che c'è gente che scopa No non è gente che scopa Qua si può sentire Ah Si può sentire Wow Cazzo è liscio Cazzo vuol dire Vai via vai via vai via Ok qua si c'è Qua c'è vabbè c'è un morto Ormai Ah è qua dov'era Qua chi c'è A me serviranno anche delle pile Andiamo avanti Per salire su una sporgenza Tu sei ancora la tirare zuccata Non sei deficiente E non ti fa bene Sì Ancora Ancora Qua ci sono ancora I modisti di prima No Oh No 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 Ma col cazzo Wait Segue le scienze Segue le scienze Va bene Non è Ma di qua si può Ah e no Segui sangue Però c'è sangue anche qua Quello è un calzino Sì però è un po' enorme Quello calzino Che piede c'ha quello Tipo un 66 Giù per lo scarico Down the drain Pile 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 Non me Non me Si scrova Qua è una nota Però pile mi sa Un secchio di sangue Chi è che c'è Vuoi un po' di sangue da bere? No Allora Documenti Qua è un pittore Il dottore Sahai Kakar Mi ha dato il suo contatto Per il simbolo Che c'è E' bellissimo La azienda Ma no Il progresso Clozapina Vabbè Chissà cos'è la clozapina Magari lo scriva nei commenti Io non ho idea Vai giù con lo scuolo Va bene Anche la feccia Mi sa che dovremmo andare di lì Qua è chiuso Ah Chiudendo la porta alle tue spalle Era lì No No Ma sei scemo Aprire la fanta così veloce Pile di magi Sono pile qua Pile 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 No No Pile niente Un cazzo di pile Vabbè Pile Pile No Te Sei qua dentro Posso liberare No ma non mi sembra neanche una grande idea liberarla Questo tipo Non mi sembra molto pacifico Le storie Penso Che la webcam stia funzionando Ma non è che ne sono totalmente sicuro Si Ma non è che ne sono totalmente sicuro Non è che ne sono sicuro Ma zio sei brutto No 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 Sei pacifico Se io passo di qua Non mi tocchi vero Lasciami di prego Pile Qua c'è un monitor Una pila Pila, pila Sì Non mi menare con quell'affare Io non t'ho fatto niente Possiamo entrare, signori No Andiamo avanti Luce No, ci sono dei rumori dentro Corri, 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 corri Merda, merda Merda, merda, corri, corri, corri Corri, corri, corri Corri Ok, vai, vai, vai Vai, vai, vai Nasconditi qua, nasconditi Oh, cazzo, cazzo, cazzo Ci vede sicuro Io pensavo di potermi mettere sotto al letto Madonna Bene Sì, però se lo stronzo è tornato di qua Siamo tutto a capo Dov'è il pezzo? Tu sei Sei ancora pacifico Spero che sì No, lascia Non ti faccio male Vai, corri, corri, corri Come se non ci fossero domani Poi c'è ancora, no? Chiudi la porta Chiudi la, chiudi la Chiudi la Chiudi la Chiudi È sicuro Qualcunca Di merda Io lo so Lo so Lo so Che arriva qualcuno Lo so Che arriva qualcuno Arriva qualcuno Arriva qualcuno Arriva qualcuno Sì, c'è la musichetta bastarda Arriva sicuro Qualcuno Ma io no veramente, soprattutto a giocare con te, sinceramente non è che mi metti tanta voglia, però Da che parte devo, ah è la porta di prima Wow No 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 Oh oh corri 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 Oh corri mettete dentro dentro, veloce Cazzo Cosa puoi da me? Vai via, vai via, no 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 Ok Vattene Vattene un po' bastardo Ma perché ci ha risseguiti? Adesso ci fa il trappolone ci frega Ci fa il trappolone, no se ne è andato Sì io spero che se ne sia andato il pensione Dove sei? No basta scappa Corri 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 Merda, ok Vai, disaffettami No, no, vaffanculo, vai via, vai via, dov'è che si può andare Buong ragazzi, mi sa che per oggi mi sono abbastanza spaventato Quindi ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo video Ciao a tutti e grazie per la visione